Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore Allora ragazzi andiamo avanti con il nostro Salford quest'oggi inizieremo il mese di marzo, proprio il primo affrontando il Cardiff City, poi partire contro il Millwall e poi arriveremo al 18 dove affronteremo l'Ipswich Town le cose proprio proprio ultimamente stanno andando abbastanza bene nella scorsa puntata abbiamo visto proprio i fuochi d'artificio con tre partite e una più emozionante dell'altra tre vittorie che ci hanno permesso addirittura di balzare al terzo posto in classifica meno quattro dal secondo occupato ancora dal Fulham Comunque ragazzi come al solito prima di iniziare a giocare io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi e anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità e a seguirmi sulla pagina Instagram, il link del profilo è come sempre in descrizione ma anche a sostenere e supportare il canale tramite una donazione grazie al link che è in descrizione detto ciò ragazzi direi che senza perdere il tempo si può scendere in campo la formazione l'ho preparata già perché sì non c'è motivo, l'ho fatto prima di chiudere lo scorso video come faccio sempre non so perché vi sto dicendo questa cosa comunque ragazzi scendiamo in campo a partire contro il Cardiff City è un periodo dove possiamo permetterci sempre di schierare la miglior formazione possibile che arrivati a questo punto della stagione è anche fondamentale come cosa comunque Popa, Osservo, Griffes, Phillips e Michael Brinzi che ormai diciamo che sta giocando abbastanza stabilmente in centrocampo con Wout, Diomando e Galbraith in attacco Bakwa a sinistra, Bale a destra e Rodrigo Ribeiro che ultimamente mi sta giocando bene soprattutto mi piace Roberto quando subentra quindi continuiamo a sfruttare questa cosa finché le cose vanno bene ma occhio ragazzi subito al Cardiff che prova a rendersi pericoloso in area il sinistro e deve arrivare subito una parata sensazionale da parte di Popa e occhio ragazzi calcio d'angolo la palla è lì e arriva ancora un'altra parata fondamentale da parte del nostro portiere che è partito subito a mille all'ora e occhio possiamo avanzare c'è Bakwa, attenzione Bakwa vedo già il Vibere da quest'altra parte che la stoppa e poi calcia col destro e riesce a trovare il gol del vantaggio azione devo dire quasi strepitosa da parte dei nostri ragazzi 1-0 segna Harvey Vail che appunto riesce a siglare un gol veramente eccezionale che merita anche di essere rivisto quindi qui appunto siamo già arrivati al lancio di Bakwa per appunto il nostro numero 7 che col destro bello diciamo Vail calciano praticamente di controbalzo affascinante lì l'animazione del difensore che sembrava volesse andare col petto però subito risposta immediata di kickoff per il Cardiff City è un classico ormai sinceramente però era una partita a mille all'ora questa qui diciamo per noi era il primo tiro quindi ci posso purestare in un certo senso e occhio ancora al Cardiff ragazzi qua azione veramente strana però ho visto un miracolo di un difensore praticamente quindi siamo stati veramente graziati qui e occhio Rodrigo Ribeiro gran pallone per Bakwa che si inserisce sempre alla grande Bakwa vedi dentro Galbraith che riesce a trovare ancora un gol 2-1 quanto sta segnando Galbraith ultimamente e devo dire che potrebbe essere fondamentale essere tornato in vantaggio proprio allo scadere del primo tempo e ok ragazzi si conclude anche un bel primo tempo 2-1 per noi sicuramente ragazzi il Cardiff non meriterebbe di perdere questa partita siamo onesti sarei curioso di vedere anche le statistiche però penso che stanno costruendo di più l'oro infatti ragazzi per noi solamente due tiri ma due gol e poi 5 per il Cardiff City sicuramente ragazzi è una partita un po' particolare oggi però ovviamente ragazzi a noi va bene tutto qui attenzione occasione clamorosa per il Cardiff l'ennesima di questa partita comunque ragazzi dicevo che per noi va bene veramente tutto è troppo importante vincere in questo periodo qui mega lancio di Diomand per Ribeiro che becca la traversa clamorosa ecco qui è arrivato un tiro che non è gol perfetto e occhio Diomand buona per Galbret dentro Rodrigo Ribeiro la palla rimane lì che peccato ragazzi là Diomand non è stato molto reattivo altrimenti poteva calciare di prima intenzione addirittura bello Galbret qui come l'aveva uncinata ci prova ancora Galbret veramente ragazzi ormai ha sposato la nostra causa in pieno è veramente diventato un leone e qui occhio al Cardiff palla dentro rovesciata tentata da parte di Ojo se ne ho visto male qui Popa la mette in calcio d'angolo ma forse non ce n'era bisogno invece una cosa di cui ce n'è assolutamente bisogno sono i cambi perché è il momento di farli dentro Ba e Nilla centro campo in attacco abbiamo Brad Phillips Roberto e vai lì che ormai diciamo entrano come sempre tutte e cinque ma qui ragazzi occhio al corner per il Cardiff la palla rimane pericolosissimamente lì in qualche modo Popa riesce a bloccarla ragazzi ma Popa nelle ultime partite è veramente disumata non ha senso qui occhio Brad Phillips è partito e madonna ragazzi è allucinante è allucinante Brad Phillips ancora dentro per Roberto che clamorosamente oddio ho sputato 8 bambini che clamorosamente si mangia il gol del 3-1 qua doveva far gol occhio al corner però adesso Wood la mette dentro proprio verso Roberto che prova a rifarsi ma ancora palla fuori occhio ragazzi che siamo al novantesimo ormai è finita non mi ha selezionato Gribs la palla rimane lì non ci rito ragazzi Popa riesce a bloccarla arriva anche arriva anche il fischio finale un'altra partita di infarto ragazzi però per l'ennesima volta con un gol di scarto riusciamo a portarla a casa secondo tempo sicuramente molto più combattuto molto più emozionante rispetto al primo alla fine abbiamo costruito qualcosina in più nel secondo però sta di fatto che è stata una partita molto complicata che Cardiff ha giocato bene ci ha messo molto in difficoltà clamorosamente lì abbiamo fallito il gol della sentenza il gol del 3 a 1 che non ci avrebbe fatto vivere un recupero molto ansiogeno e allora ragazzi allora curiosissimo di vedere la classifica che ci vede sempre terzi no il Burley ancora deve giocare peccato altrimenti voleva dire che si era fermato e infatti ragazzi è successo ha veramente perso perde il Burley clamorosamente forse si è fermato anche lo Sheffield fatemi controllare lo Sheffield ah eccoci qua Sheffield batte batte Burley 2 a 1 quindi dopo la sconfitta con noi il Burley si ferma ancora adesso addirittura abbiamo il Fulham a prima posto in classifica ma allo stesso tempo è molto meglio così perché abbiamo una doppia possibilità di recuperare una squadra perché siamo ora sia diciamo sempre a meno 4 però sia dal Fulham che dal Burley quindi ragazzi situazione che si sta facendo molto interessante io ormai già sono diciamo convinto di giocarmi i playoff quindi è chiaro che non spererei di nulla di più diciamo che ora il mio obiettivo è mantenere il terzo posto per giocare il playoff da favorito in un certo senso però ragazzi è chiaro che finché siamo qui noi continueremo a lottare comunque rispetto al settimo posto siamo molto distanti quindi appunto fra le prime 6 ci rientriamo sicuramente adesso però bisognerà vedere proprio come va a finire e allora ragazzi scendiamo in campo adesso partita contro il Mirwall 21esimi in classifica quindi sono molto curioso di vedere cosa succederà quest'oggi c'è un piccolo cambio di formazione in pratica sempre gli stessi però c'è Zanzala quest'oggi ogni tanto sbuca il nostro Zanzale il nostro fastidiosissimo semplicemente l'ho schierato perché mi ha chiesto di scendere in campo quindi in questi casi secondo me è sempre giusto assecondare FIFA quindi Zanzala da primo minuto Roberto sempre in panchina e quest'oggi voglio portarmi anche Murri in panchina al posto di Murri che secondo me da subentrato potrebbe essere molto utile quindi ragazzi tutto pronto andiamo in campo ma occhio subito a Millwall che prova a rendersi pericoloso Honeyman in aria tocco al retrato occhio Burri e subito arriva la chance pericolosissima importantissima per il Millwall ma ovviamente Popa alza la saracinesca e si riparte qui Bakva che giocata che ha fatto il nostro attaccante possiamo andare attenzione c'è Zanzala che si inserisce alla grande e tocco dentro proprio per Zanzala che non riesce a metterla dentro ma fortunatamente arriva come al solito Hervey Vail che riesce a sbloccare la partita pure quest'oggi importantissimo passare in vantaggio subito come abbiamo fatto prima contro il Cardiff speriamo che ci possa essere lo stesso esito ma con meno ansia e occhio ed eccolo qui che puntualmente arriva subito il pareggio del Millwall esattamente come prima con il Cardiff quindi ragazzi mi sa che ci aspetta un'altra partita di estrema sofferenza stavolta Popa non è riuscito a fare il miracolo e segna Fleming che è anche un ottimo giocatore ottimo ancora Millwall in area attenzione qui riesce a fare il miracolo Popa nel dubbio c'era anche Griggs dietro comunque in entrambi i casi bisognava concedere un calcio d'angolo che qui viene anche bloccato da Popa e mi sa che quest'oggi non riusciamo a tornare in vantaggio già nel primo tempo cercheremo di farlo nel secondo devo dire che Zanzala non riesce a pungere ovviamente quest'oggi diciamo che sicuramente la championship è più complicata però sicuramente da subentrato resterebbe un ottimo giocatore in qualsiasi categoria però secondo me in questo caso è meglio far giocare Roberto tutto il secondo tempo mi dà molta più fiducia quindi proviamoci e occhio Galbret prova da Zanzala col mancino verso Ervi Bale attenzione c'è dentro Roberto la palla è buona per lui ed eccolo qui che ci ricompensa subito Roberto il nostro numero 9 arriva il gol del 2-1 appena messo in campo 6 minuti e 30 secondi arriva il gol del 2-1 che ci riporta in vantaggio qui sul campo del Mirwall bellissimo il lancio di Galbret per Ervi Bale che ancora riesce a rendersi protagonista e poi Roberto di effettivamente contro Balzo riesce a battere il portiere però risposta immediata del Mirwall che è già in area con Placeda il suo numero 7 Michael Brenzino riesce a prendere qui sfortunatissimo e occhio ancora il cross dentro Gribs riesce a liberare qualcuno vada sulla palla vi prego occhio bisogna ancora soffrire palla per Borey niente da fare il tiro di Placeda Popa ti prego Popa blocca blocca Popa blocca madonna qui brivido improvviso che era perfettamente evitabile occhio Bacva qui bella giocata può correre Bacva vedi dentro Roberto madonna Bacva che cosa ha fatto vedi dentro ancora Ervi Vail ragazzi azione capolavoro la parte del Southford Vail che passa attraverso che passa attraverso la rete di porta comunque 3-1 doppio vantaggio stavolta riusciamo a trovare il gol che ci rende molto più sicuri ragazzi ma l'abbiamo fatto su un contropiede allucinante spettacolare però 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 arriva un altro miracolo da parte di Popa ancora Mirvul pericoloso che ovviamente non molla però Popa è sempre sul pezzo allora facciamo dei cambi allora quest'oggi fare giocare un po' Mendes che è da un po' che non scende in campo Bayley e Wright Phillips come sempre e poi metterei Moore a centrocampo al posto di Omand sinceramente vai e oggi possiamo andare Roberto fa correre Wright Phillips ovviamente la sua specialità il cross dentro per Bayley che col destro riesce a tornare al gol il nostro numero 10 il nostro giocatore comunque uno dei nostri giocatori più rappresentativi uno di quelli che sta proprio dalla formazione base insieme a Galbraith Wood e nessuno più praticamente perché ci stavo pensando effettivamente abbiamo abbiamo venduto già tutti però è affascinante che due su tre siano ancora dei titolari e oggi ancora ragazzi adesso possiamo addirittura dilagare dopo il 3-1 il Mirvul è completamente scomparso dalla partita arriva addirittura la doppietta di Bayley pesantissimo 5-1 che sicuramente ragazzi è un punteggio abbastanza eccessivo comunque finisce qua la partita che è stata molto più sofferta di quello che può sembrare dal punteggio infatti fino al 2-1 era ancora apertissima a qualsiasi risultato come sempre bisogna ringraziare Popa poi dopo il 3-1 chiaramente il Mirvul diciamo abbastanza sfiduciato ha rinunciato anche ad attaccare comunque 5-1 appunto molto pesante adesso è importante vedere il risultato delle altre ho visto un pareggio nel Norwich ma il Fulham e il Burley non li ho visti comunque ragazzi comunque siamo sempre terzi il uh 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 ragazzi qua succedono cose pazzesche allora fatemi vedere subito fatemi vedere fatemi vedere Fulham commentary 1-1 adesso si ragazzi che si rientra in corsa addirittura non voglio esagerare ma forse anche per il primo posto il Burley deve giocare ancora alla partita contro il Cardiff che andiamo a vedere subito come andrà a finire avanziamo ok si dovrebbe sapere già uh sono anche loro fermi a 76 e qua ragazzi c'è proprio lo zampino di FIFA che forse sta provando addirittura 3-3 fra Burley e Cardiff mi sa che qua c'è lo zampino di FIFA che in questi casi improvvisamente si rompe e sembra che non dico voglia farti vincere però qualcosa del genere ma allo stesso tempo ragazzi siamo ancora terzi abbiamo guadagnato ancora dei punti dal Norwich quarto quindi benissimo così adesso ragazzi mi sembra abbastanza scontato dover credere sempre di più alla promozione diretta ecco ora ora forse sarà diverso perché ora si giocherà con la cosa che tu devi vincere per arrivare primo o secondo invece fino ad ora appunto con questa consapevolezza di essere certo del playoff giocavo più spensierato in un certo senso perché diciamo alla fine bisognava finire sempre in quella posizione e ora l'obiettivo sarà mantenere sempre questa questa idea tra virgolette intanto qui ragazzi dove cavolo è uscito questo Collin 3 milioni e 4 17 anni piede sinistro sembra un giocatore abbastanza offensivo ma centrale pure quest'atto ragazzi 2 milioni e 2 vabbè in Francia lo sappiamo bene che ci sono sempre dei talenti forti madonna ragazzi Simon Bertrand è già un 67 un terzino l'altro che è arrivato è Collin o Collin se vogliamo essere precisi un C o C purtroppo ma corre abbastanza mi sa che questo qua può fare l'esterno poi ho trovato pure questo Taylor 16 anni 63 un metro 82 un centrale diciamo per il momento l'ho preso però non mi sembra nulla di eccezionale ok ragazzi si torna ancora in campo Ipswich Town contro Salford attenzione che il Fulham ha già giocato e ha vinto ha vinto anche Norwich quindi forse era meglio che non la guardavo questa cosa perché siamo quasi obbligati a vincere anche noi comunque Ipswich un pochino stanco ma nulla di che comunque Popa Frepali poi Oster Watt Grieves Phillips e Michael Brancy Watt Diomand Galbret Buck Rodrigo Ribeiro e Bale praticamente sempre la stessa squadra che tanto sta facendo bene ultimamente Diocchio ragazzi Gabbrit prova a far correre Bale che è partito come un razzo Bale attenzione dentro attenzione Rodrigo di testa la spizza ma la palla arriva a Buck va qui subito occasione importante c'è Diomand che prova a calciare sul primo palo qui molto intelligente il nostro Diomand occhio l'errore Ribeiro prova a calciare qui molta confusione ma alla fine si salva l'Ipswich e occhio però all'Ipswich in aria qui ci siamo fatti veramente beffare bravo l'attaccante era aspettare giusto quell'attimo in più per avere più possibilità di riuscire a segnare guardate qui forse poteva calciare nel momento in cui stava per prendere il pallone però sembra proprio che abbia aspettato quell'attimino non so ma mi ha dato quella sensazione comunque ovviamente non è un problema per noi subito si riparte con Bakwa che vedi dentro da solo ancora Erby Vail che riesce a segnare protagonista e indiscusso di questa puntata il nostro bomberone il nostro 80 di overall che effettivamente è il nostro giocatore più forte che c'è in rosa manco popa è arrivato ad essere 80 ma lì per colpa di FIFA che è stupido che appunto me l'ha fatto bloccare perché è arrivato al potenziale massimo e occhio ragazzi possiamo andare bello il pallone dentro di Ribeiro per Diomando che riesce a segnare il gol del 2-1 madonna ragazzi la nostra squadra sta attraversando un periodo veramente esaltante oserei dire riusciamo a ribaltare addirittura questa partita bravissimo Diomando qui ad inserirsi è un periodo dove gira veramente qualsiasi cosa comunque ragazzi l'arbitro poteva tranquillamente fischiare il rimpallo alla fine arriva la parata di Popa buttala via altrimenti questo il calcio d'angolo lo fa battere fischio finale dell'arbitro solamente del primo tempo purtroppo 2-1 all'intervallo per noi ma alla fine ragazzi non potete non potete capire quanto sia stato importante trovare questo gol con Diomando e occhio Rodrigo Ribeiro buona dentro per Diomando che può sterzare buona rappoggio Baccava può andare col destro qui ci prova il nostro talentino ma arriva la parata del portiere e occhio al corner il solito Wout a battere verso Rodrigo Ribeiro palla alta occhio Baccava prova a sterzare bravissimo prova a seguire in movimento di Rodrigo Ribeiro che va sul primo palo provando a segnare ma arriva ancora la parata di Walton cambi ragazzi cambi soliti 5 dentro Ba e Neil a centrocampo e poi Brad Phillips Roberto e Bailey vediamo se funzionerà ancora questa tattica tra virgolette e occhio Neil col mancino dentro per Bailey che può andare Bailey prova subito di cross verso Roberto che prova ad incornarla ma la palla viene respinta attenzione Wout che prova una mezza finta poi palla per Brad Phillips ancora Wout dentro Roberto prova a calciare col destro ancora Walton dai ragazzi che sta per finire pure questa bravo Osterwald che recupero di Osterwald che giocatore fischio finale alti 3 punti soffertissimi arriva l'ennesima vittoria di Gorto Muso ancora un 2 a 1 però ragazzi in questo caso forse un 2 a 1 che ci va un pochino più stretto rispetto alla partita di prima contro il Cardiff City ma allo stesso tempo è giusto così perché poi appunto il calcio è anche questo e appunto però è un periodo che nel bene e nel male riusciamo sempre ad uscirne fuori comunque adesso ragazzi chiaramente non voglio assolutamente contarle ma a quante vittorie consecutive siamo arrivati e allora ragazzi allora innanzitutto uno sguardo alla classifica siamo secondi ragazzi siamo secondi effettivamente che è successo perché il Fulham a 39 giornate così all'improvviso si è sminchiato tutto partita per noi contro il Luton Town perché non ho capito è brutto quanto succede ragazzi soprattutto quando siamo nel finale però a parte tutto il Burley si è fermato ragazzi perché perché siamo balzati al secondo posto a pari punti con loro il Burley dove cavolo è il Burley fatemi vedere il mio Burley che non lo trovo eccolo qua Burley che ha fatto giustamente 2 a 2 con i Nolo ci sono anche i risultati che ci possono stare perché sono contro squadre forti alla fine addirittura adesso abbiamo Midesbrough quinto in classifica siamo secondi raga la situazione ancora è estremamente come si dice volubile che può cambiare quindi può succedere qualsiasi cosa ma sta di fatto che ora come ora siamo in zona promozione e ovviamente ragazzi adesso bisogna continuare a spingere sull'acceleratore adesso vediamo FIFA come si comporterà visto che siamo effettivamente al secondo posto diciamo una cosa che si è capito è che appunto FIFA basa in un certo senso lo script diciamo come deve andare l'andamento del campionato anche in base a che posizione ti trovi tu e secondo FIFA tu in che posizione dovresti essere è un discorso un po' particolare però effettivamente ormai sappiamo benissimo che è così comunque nella prossima puntata Luton Town reading e sfida allo Sheffield che è un'altra partita molto tosta e complicata quindi ragazzi io per oggi non posso far altro che fermarmi qua la squadra ha recuperato al 100% meno male ma sinceramente me l'aspettavo comunque io per l'appunto per oggi mi fermo qua come al solito mi invito lasciate un mi piace iscrivetevi al canale a seguirmi sulla pagina Instagram e a sostenere il canale tramite una donazione noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.